musica ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ad un nuovo video, come al solito io sono Gabriel, io Birillo oggi andremo a farvi vedere un nuovo liquido, vai Birillo, esporincelo allora un campione gratuito che ci è stato donato da Svappo Caffè, ricordiamo, Marina di Carrara mollecciara e la spezza, andate da trovare allora il liquido si chiama Arctic Fizz al suo interno c'è cola e mela fresca ora andiamo a fare la prova di questo liquido è un vecchio formato 20 ml che ci va aggiunta dietro la vaseta, la nicottina ora andiamo a fare la prova di questo liquido io ho sempre sull'Artica e il Profile una copiata vincente la boccetta è così, è bello denso, bello opaco lo vedo molto strong no, che fa tanto fungo mi sarà, mi da questa idea di un liquidozzo molto che spinge col vapore questo qui fa la fumacera si già da prendere la boccetta si sente l'odore di cola è quello che ti arriva fa un botto di fumo un botto di fumo con la cola e mela freschi freschi un po' ti pulisce anche la bocca quando fumo le tabacose questo quanto aiuta un po' ti stura ti stura ti stura un pochino allora il liquido è della Enjoy Swap che voto gli dai? io ci do un 6 e mezzo si, 6 e mezzo o 7 e il day ci sta se ti vuoi cambiare un po' i gusti ti rinfresca un po' la bocca ogni tanto per staccare da un liquido cremoso ci sta va bene un buon liquidozzo un Enjoy Swap simpatico diciamo anche ti fa un po' ridere perché quando è strano devi un po' capirlo come il liquido si, magari all'inizio così non può piacere perché non riesci a capire c'è un po' di zenzio è vero a me che sei subito lo zenzio però l'ultimo ti rimane a cuore senti la cola e anche la mela lo devi analizzare un po' lo devi analizzare un po' devi farci un po' la bocca è vero però ci sta ci sta allora dalla tabella dello Swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare ciao 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 ciao